I carabinieri di Ruvo di Puglia, nell'ambito delle attività di controllo del territorio con pattugliamenti delle aree cittadine e di quelle rurali, nelle ultime 48 ore hanno arrestato tre persone, tutte sorprese a trafugare frutta e beni all'interno di aziende agricole. Le manette sono scattate per un 57enne, dedito al furto di mandorle, e due giovani, uno di 21 anni e l'altro minorenne, sorprese all'interno di un'azienda mentre tentavano di caricare a bordo di un'auto un cospicuo numero di pedane in legno. Alla vista dei militari, nessuno dei malfattori ha opposto alcuna resistenza, consentendo il completo recupero della rifurtiva e la sua restituzione agli eventi di ritto. Dichiarati nell'immediatezza e in stato di arresto, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, i due maggiorenni sono stati tradotti presso la casa circondariale di Trani.